Si chiama Viviamo il Sarrabus Gerrei, esperienza tra cultura e natura, l'accordo di programmazione territoriale firmato a San Basilio dall'assessore regionale al bilancio Giuseppe Fasolino e 14 comuni interessati dal progetto. Lo scopo della programmazione è creare un sistema tra le unioni di comuni dell'isola con l'obiettivo finale di combattere una delle piaghe più gravi, lo spopolamento. Per combattere lo spopolamento dobbiamo cercare di investire su quelle che sono le peculiarità dei territori. Con la programmazione territoriale stiamo andando in tutti i comuni proprio per investire su quelle che sono le attitudini dei comuni stessi ma anche delle economie, delle caratteristiche delle economie locali della nostra isola. Questo è un risultato importante, adesso noi ci aspettiamo che come questi ne arrivino degli altri con la prossima programmazione comunitaria. Sostegno e vicinanza alle comunità come punti fondamentali dell'azione di governo nelle parole del Presidente della Giunta Christian Solinas che conferma l'impegno dell'amministrazione regionale per portare a compimento i piani di rilancio per il Sarabus Gerrei nell'intento di valorizzare le caratteristiche e le peculiarità locali. L'obiettivo del progetto finanziato con 12 milioni di euro di fondi regionali è migliorare la competitività del contesto locale creando le condizioni per generare nuova imprenditorialità e occupazione attraverso la costruzione di una rete di attrattori storico-culturali, ambientali e no gastronomici e promuovendo nuove forme di accoglienza e di fruizione del sistema turistico.